Si è chiuso in un silenzio che nessuno è riuscito a rompere, nemmeno questa mattina durante l'interrogatorio di garanzia ha voluto dire nulla al giudice per le indagini preliminari. Si è avvalso della facoltà di non rispondere all'ex finanziere di 46 anni che sabato mattina ha colpito con una roncola la moglie dalla quale si sta separando. Ricoverato nell'infermeria del carcere da quel drammatico giorno non ha più parlato, intanto la donna a 50 anni è stata dimessa dall'ospedale e si trova assieme alle figlie da alcuni parenti. Non ha voluto tornare in quella casa dove è stata aggredita dal marito, un rapporto difficile fatto di liti, quello dei due coniugi. Lui se n'era andato di casa da qualche tempo e viveva presso alcuni parenti in Germania. Fino a sabato, quando è tornato in via Montecervino a Marcon, ha atteso la moglie e poi l'ha affrontata colpendola sotto gli occhi delle figlie a colpi di roncola. È stato grazie all'intervento repentino di un tassista che stava uscendo di casa per portare la figlia a scuola che l'aggressione non è terminata in tragedia. Si è precipitato dall'ex finanziere ed è riuscito a togliergli l'arma dalle mani. Il sindaco di Marcon, Andrea Follini, ha telefonato immediatamente al tassista e ha deciso di conferirgli un encomio. Domani lo incontrerà in municipio. Tanto la mia volontà è quella di stringergli la mano a nome della collettività di Marcon perché ci sia un segno tangibile della testimonianza di vicinanza per il suo gesto. Una comunità, quella di Marcon, sotto sciocche per quanto è accaduto, ma questo gesto coraggioso che ha salvato una vita non deve passare inosservato. È fondamentale che i cittadini, dice il sindaco, in tante situazioni non si voltino mai dall'altra parte. Però l'importante è che ci sia una comunità che non si chiude in casa ma si guarda all'esterno. Sta male, ci spiega l'avvocato dell'ex finanziere Barbara Mariano. L'uomo, dopo il grave incidente avvenuto in servizio qualche anno fa, non si era più ripreso. Poi il congedo e la fine del rapporto con la moglie. Grazie a tutti.